Ma innanzitutto la vicenda del Covid è così drammatica ancora, ahimè, qui da noi un po' di meno. Per fortuna la gente qui sta più attenta, mantiene distanze, tira la mascherina, eccetera. Quel provvedimento è teso a ridurre gli assembramenti. Quello che io ho scritto al Presidente del Consiglio del Ministro e al Presidente della Giunta regionale, perché la materia è dello Stato e delle Regioni, è che i nostri quattro centri commerciali classificati tali, perché poi Tavuglia e Montalabate non hanno centri commerciali, Pesola ha centri commerciali chiusi, i nostri sono quattro centri commerciali aperti. E quindi abbiamo scritto che essendo aperti, essendo luoghi in cui non ci sono assembramenti se non come le altre attività commerciali normali, se si può intendere che essendo aperti possono rimanere nei weekend, sabato e domenica, aperti. Se la razza è quella che bisogna evitare assembramenti, noi abbiamo invitato quotidianamente i cittadini a stare il più possibile a casa, a recarsi al lavoro, a far la spesa e le cose indispensabili, per il resto evitiamo i contatti il più possibile, perché dobbiamo salvare le vite umane che ahimè stanno aumentando i defunti. Qui devo dire tutto sommato che la gente è abbastanza attenta, anzi con l'occasione anche per ringraziarli, però per dirgli che tocca stare sempre più attenti se vogliamo avere tutto aperto per Natale, se no credo che noi rischiamo la chiusura, tutte le feste che vanno da Natale fino all'Epifania. Quindi se si vuole evitare questo bisogna mantenere le regole. Spero che ci sia una risposta, speriamo che ci sia una risposta positiva, e cioè che possono essere questi centri commerciali, richiesti da chi li ha costruiti come centri commerciali, possono essere considerate alla stregua delle altre aree commerciali, perché sono tutti e quattro aperti. Quindi spero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione ci possano dare una risposta positiva alla lettera che noi abbiamo inviato proprio questa mattina, come Presidente dell'Unione dei Comuni, perché le attività commerciali le gestisce l'Unione dei Comuni. Sì, ci siamo attivati immediatamente appena ci hanno segnalato questo disagio, che in realtà è un disagio vero e concreto, nel senso che il DPCM prevede la chiusura dei centri commerciali, ma quando si parla di un centro commerciale siamo abituati a considerare quegli spazi chiusi, cioè dove c'è una galleria e i vari negozi affacciano all'interno di questa galleria. In molte situazioni, soprattutto nella città di Vallefoglia, invece ci sono dei centri commerciali così definiti dove le varie attività economiche hanno un ingresso indipendente, cioè affacciano direttamente o in una via pubblica o in un parcheggio e quindi hanno un ingresso completamente indipendente come qualsiasi tipo di attività, ad esempio, che sta all'interno di un centro storico. Ed è per questo che abbiamo fatto la richiesta al Ministero attraverso la Regione e voglio ringraziare ovviamente insieme a me anche la consigliera Michela Vitri, il sindaco Chielli che si è attivato immediatamente e insieme all'assessore Cardoni abbiamo inviato questa lettera direttamente al Ministero. Noi ci auguriamo che ci sia una risposta in tempi rapidi per poter capire, per poter dare questa informazione e per poter dire che i centri commerciali che in realtà si sviluppano all'aperto non vengono considerati come quelli al chiuso ma come qualsiasi attività. È un momento molto difficile dove anche chi ha un'attività economica fa molto difficoltà ad andare avanti e se è possibile in qualche modo anche stare vicino a questo tipo di attività io penso che sarà sicuramente un bel segnale. Mi auguro che arrivi a breve questa risposta.